Finalmente ci siamo, concluse gli home visit, abbiamo i concorrenti che parteciperanno alla edizione numero 9 di X-Factor che partirà giovedì prossimo 22 ottobre 2015. Allora, vediamo un attimo, per la categoria over, ricordiamo che Elio è il giudice per la categoria over, sono Davide, Giosada e Massimiliano. Per quanto concerne invece la categoria gruppi che è capitanata da Fedez, abbiamo Landlord, Music e Urban Strangers, per la categoria Under Uomo capitanata da Mika abbiamo Eva, Leonardo e Luca, Eva ovviamente è il nome d'arte del ragazzo, e infine per la categoria Under Donna abbiamo Eleonora, Enrica e Margherita. Ora, effettivamente possiamo già tentare di capire quali saranno i favoriti, poi ovviamente quello dipende sempre tutto da, secondo me, come dico da anni, dai testi, cioè dal tipo di canzoni che vengono scelte per i cantanti e dal tipo di arrangiamento. Però così, ad occhio e croce, io dico che per come è la società attuale, io lo vedo anche insomma tra gli youtuber, si tende sempre a prediligere i giovani. Per cui vedo sicuramente favorite le categorie di skin, quindi Under Donne e Mika Under Uomini. Per quanto riguarda invece i protagonisti, io punto tutto su Enrica per la categoria Under Donne e su uno tra Eva e Leonardo, sicuramente per la categoria Under Uomini. Poi staremo a vedere, voi ditemi il vostro pensiero, secondo voi chi è il favorito, se ci potrebbero essere delle sorprese, insomma ditemi un po' la vostra.